I can feel your love pulling me up from the underground I don't need my drugs, we could be more than this part time lovers I can feel your touch picking me up from the underground Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Sono qui oggi, volevo usare l'audio perché, non so perché Per portarvi un vlog al maneggio Allora, ora sono le 9-10 Io ho lezioni alle 10, però devo andare ovviamente un po' prima per stellari E quindi appunto... ...di mattina E nulla, noi ci vediamo dopo Ciao, io comunque la sono già vestita E ora scendo e andiamo Allora, l'ho stellato minima, anche per te la testiera E devi mettere il coppietto con i guanti Però ho messo le ghette Ciao Angelica Ciao menina Allora, l'ho stellata E anche la testiera la sta spuffando, non so perché Ciao John No, non te ne andare, te resta tra noi Ma quanto sei bella Ah! Sei andata Ciao! Ciao out! Ciao! Grazie a tutti. 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 Tieni, minnino. Tieni, zuccherino. Lì c'è tutte le cose spiaggiate. Qui c'è Angelica, qui c'è la coperta, qui c'è seppia, c'è un'era. C'è un'era, c'è un'era, c'è un'era, c'è un'era. C'è un'era, c'è un'era, c'è un'era. Ok, poi richiudiamo, dopo devo fare una cosa, c'è un'era, c'è un'era, c'è un'era, c'è un'era. Chia, c'è un'era, c'è un'era, c'è un'era, c'è un'era, c'è un'era. energetica Eccomi qua tornata allora, io veramente basità, perché usiamo un telefono qua allora, io sono adesso il giorno dopo è lunedì e ieri non ho fatto un tempo a fine il vlog perché sono tutta raffreddata, forse sonoienen Yu-Giiek sempre pronta di mano non sono neanche andata a scuola e nulla ieri è andata molto bene ho fatto un percorso prima di precisione e poi a tempo non mi ricordo quanto ho fatto però comunque meno che non è grata non mi ricordo quanto ho fatto 24 e qualcosa 24 secondi e qualcosa e poi andare a pranzo devo sardire sono andata a casa a pranzo di Angelica nella versione 3 e mezza 4 è prontata a casa però ero troppo a pezzi per finire il blocco e nulla io spero che questo video vi sia piaciuto se non si lasciate un like un commento e iscrivetevi al canale niente, riusciremo al prossimo video ciao